L'Informa Giovani di Arezzo ha lanciato il nuovo portale web. La volontà del restyling non nasce solo da un punto di vista estetico, ma anche dalla necessità di rendere il sito più fruibile. Un nuovo straordinario strumento a disposizione della città di Arezzo, in particolar modo dei giovani aretini, cultura, formazione, lavoro, tempo libero, aggregazione. Insomma, è un sito che permetterà a tutti di avere informazioni su quello che succede ad Arezzo, su quelle che sono le opportunità fuori da Arezzo, penso alle opportunità europee, e su quelle che sono soprattutto anche le opportunità di lavoro, di formazione legata al lavoro. Quali sono le principali novità del nuovo sito? Allora, il nuovo sito fondamentalmente nasce dal grande bisogno di comunicare notizie, notizie veloci e immediate che riguardano le opportunità per i ragazzi. Penso per esempio a quelle di mobilità internazionale, di cui spesso ci chiedono, e che sono notizie, come al mondo d'oggi capita spessissimo, molto veloci, con scadenze rapide. Quindi è un contenitore soprattutto di notizie. Le altre due grosse novità sono un contenitore per gli eventi, anche questo va un po' a colmare quella che è un po' una carenza qui della città, quella di avere un contenitore unico per tutti gli eventi della città. E l'altra grassa novità è la mappatura tematica del territorio. Che cosa significa concretamente? E che per tutti gli aspetti di interesse, in particolare giovanile, il sito sono stati archiviati tematicamente tutte le realtà del territorio che offrono servizi, dalle agenzie interinali, alle agenzie di formazione, al tempo libero e allo sport, e allora sentite un po' a colare.